Questa festa è uno sdalto! Puoi dirlo a parte, organizzate tutto Betty! Beh, effettivamente ho avuto una bella idea! Su, vogliamo, fate con quelle pinne! Andiamo a tempo! Vado a galla! Ragazzi, muti come un pesce, arriva qualcuno! Guardate, c'è il cossolo d'uomo! Guardate, pare ci sia un uomo arrivato! Ehi, ciao! Ehi, fai attento! Che ti sentieni con lui? Dove? Dove sono? Non conosco questo posto! Ma dai, si troverà benissimo qui! Perché? Perché? Perché da Puglisai potrai progettare il tuo acquario su misura! Di qualunque tipo! E che acquari, delle regge! Abbia scelta di pesci e materiali Per creare il tuo mango sottomarina a casa tua! Guarda quanti siamo! Guarda quanti siamo! Ciao! A come sai? L'unico negozio specializzato in acquariologia! Ehi ragazzi, sbaglio o sono andati via? Sì, possiamo tornare a fare festa! Noi Alfredo, attacca la musica! Scatugniamoci! Scatugniamoci!